Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi continueremo ancora a parlare di dissolvenze, lo so Prometto è l'ultima lezione sulle dissolvenze e poi andiamo avanti, andiamo sugli effetti E ci divertiremo forse un pochettino di più Per oggi vedremo i tipi di dissolvenza presenti in Adobe Premiere Parleremo solo di questo rapidamente e poi inizieremo la sezione degli effetti video Che molti, molti, molti amano, ma come scoprirete non sono la cosa più importante di Premiere Prima di andare avanti ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it Dove troverete articoli riassuntivi delle lezioni, video che state vedendo In fondo c'è un campo che è possibile compilare anonimamente Non abbiate paura, non dovete mettere password, mail, niente di tutto questo E potete lasciare un commento per domande, richieste e quant'altro Se avete voglia potete anche iscrivervi al mio canale YouTube Così da non perdere i video di prossima uscita E basta con le chiacchiere, torniamo a Premiere Eccoci in Adobe Premiere dove eravamo rimasti l'altra volta, nella scorsa lezione Dicevo oggi parleremo sostanzialmente degli effetti Sì, ma parleremo, ecco mi sgancio il pannellino così da poterlo posizionare meglio Eccoci qua, dicevo oggi parleremo dei vari tipi di dissolvenza presenti in Adobe Premiere Come dicevo le dissolvenze sono particolari tipi di transizioni Quindi le troverete nella voce transizioni video E ci sono qui le dissolvenze Ci concentriamo solo su questa cartellina quest'oggi Consiglio che do sempre e che ripeto anche oggi Non utilizzate le transizioni se non è strettamente necessario Rischiate di fare dei video molto kitsch Se avete dubbi su quale transizione utilizzare Utilizzate le dissolvenze Ecco, sbagliate poco con le dissolvenze Questo è un mio consiglio personale Però vediamo quale dissolvenza Perché qui ne abbiamo diverse Chiaramente abbiamo visto la dissolvenza incrociata Che è la dissolvenza tipica Diciamo per poter sfumare il video A sul video B Ok? Però abbiamo altre voci Vediamo per esempio la dissolvenza additiva Ora non vi preoccupate Ripeto, lo dico solo per completezza Ma raramente utilizzerete la transizione additiva Però sappiate che esiste Ed ecco qua Cosa fa la dissolvenza additiva? Guardate intanto il risultato Così che potete farvi un'idea da soli Ecco qua La dissolvenza additiva sostanzialmente Come dice la parola stessa Additiva Aggiunge le informazioni del colore presente nella clip A Sulla clip B Quindi sostanzialmente per esempio Guardate il bianco Ok? Della scritta della macchinetta Che qui è abbastanza Più che bianco direi grigio quasi In questo fotogramma Nella dissolvenza va a sommarsi Il bianco Con la quantità di bianco cromatica presente Nel verde del panno sul tavolo Che poi ospiterà la tazzina Questa operazione matematica sostanzialmente Nel punto massimo della dissolvenza A metà per la precisione Creerà una somma E quindi il risultato che potete vedere È questo Ok? Quasi una sorta di brillamento Anche se è sbagliato chiaramente chiamarlo così Una sorta di aumento della luminosità Dei bianchi per esempio Ok? Può essere una dissolvenza utile Carina Se dovete fare qualcosa in particolare Ecco sappiate che esiste questa dissolvenza additiva Andiamo avanti La dissolvenza non additiva È esattamente il contrario Cosa fa questa dissolvenza? Sostanzialmente è l'inverso della dissolvenza additiva Ovvero sottrae informazioni cromatiche Dalla clip B e dalla clip A Ok? Guardate quello che esce E questo è il risultato Oh fantastico Andiamo avanti con dissolvenze forse più utili Dissolvenza pellicola Oh non vi preoccupate Non vedrete effetti di grana O come potete immaginare La dissolvenza pellicola È un altro tipo di dissolvenza Simile alla dissolvenza incrociata Che tenta di imitare Le dissolvenze che si facevano in analogico Appunto con la pellicola Ok? È un effetto forse se volete Un pochettino più morbido Più realistico Della dissolvenza incrociata Quindi se avete Non so L'effetto che vi viene fuori Con la dissolvenza incrociata Non vi piace Provate la dissolvenza pellicola Un pochettino più morbida E forse anche un pochettino più naturale Andiamo avanti Abbiamo dissolvenza A bianco È facile intuire Cosa fa la dissolvenza A bianco Ok? Sostanzialmente È una dissolvenza Che tende Al bianco Il punto massimo È uno schermo Completamente bianco Quando si esce Da questa dissolvenza Si passa Chiaramente Alla clip successiva La vedete molto spessa Spesso questa transizione Molto rapidamente Per fare Quell'effetto Che viene chiamato Flash bianco Ok? Non so Avete visto per esempio Le interviste al telegiornale Parla il candidato A Poi parla il candidato B Bam È ok? Se la fate ancora più veloce È veramente un flash bianco Ecco Molti odiano Molti registi Con cui ho avuto a che fare Odiano questa transizione Non l'amano particolarmente Però in televisione Spesso si utilizza Quindi sappiate Che la transizione a bianco È questa Ed ha questo effetto Ancora Altra dissolvenza Si chiama Oscura immagine Possiamo chiamarla anche Dissolvenza nero Se preferite È la stessa cosa Della dissolvenza a bianco Con la differenza Che al centro Nel punto massimo Vi troverete Uno schermo Completamente nero Quindi ecco qua L'effetto è questo Possiamo anche Accelerarlo Ne approfitto anche Per dire un'altra cosa Che chiaramente Le transizioni Non è detto Che debbano andare Per forza Nei punti di montaggio Possono andare anche Alla fine All'inizio di una clip Se poi Chiaramente Non c'è nulla L'effetto Sarà una dissolvenza A nero Esattamente come Quella che abbiamo visto prima Però se sotto C'è qualcosa Con la dissolvenza Incrociata L'effetto Sostanzialmente È simile Alla dissolvenza Incrociata Tra due clip Adiacenti L'ultima dissolvenza Che non vedremo Quest'oggi Ve la lascio Per tutorial futuri Si chiama Taglio Morphing È un modo Più elegante Per mettere Una transizione Incrociata Ma lo vedremo Non vi preoccupate Lo vedremo Nei tutorial Un pochettino Più avanzati Queste sono Le dissolvenze Presenti in Premiere Come detto Nella lezione precedente Sul mercato Esistono Tantissimi Tipi Di dissolvenze A pagamento Per esempio Tra le transizioni A pagamento Che tra l'altro Costano diversi Diversi soldini Parliamo di 1500-1600 euro Trovate quelle proposte Dalla software house Boris FX Il prodotto Si chiama Sapphire 2019 Giusto per darvi Un'idea Di quello Che è possibile Fare con 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 Questo Con questo Plugin Guardiamo Qualche video Giusto per divertimento Questa è Questa è una transizione Che è possibile Realizzare Con il plug-in Sapphire Vedete Queste forme Geometriche Che compaiono Questi cerchi Queste onde Ecco In Premiere È impossibile Realizzarle Di default Questi effetti Devono essere Chiaramente Acquistati Separatamente Vediamone un altro Solo per Per gioco Vediamo questo Olè Molto bello Questi flash Queste Cose molto futuristiche Molto Molto Tecno Sono chiaramente Tutti effetti Che Molto belli Ma che purtroppo Per voi E per noi tutti Costano diversi Soldini Vediamo l'ultima Sempre per Puro Piacere Ma ricordo Cercate BorisFX Sapphire Potete Dare un'occhiata Alla gallery Che è presente Qui sul sito Ecco Questa è una Transizione classica Sono Come potete vedere Sono personalizzabili No È possibile Mettere dei bordi È possibile Regolare Il modo In cui Queste transizioni Entrano Sullo schermo E La cosa bella Di queste Di queste Transizioni È che Sono molto Versatili Cioè Possono essere Applicate A diversi Video E possono essere Personalizzate Davvero Davvero Tanto Si modificano Sempre dal pannello Controllo Effetti Quindi voi Quando acquistate O provate Perché poi Se volete provare Il sapphire Potete scaricare Una versione Gratuita Quando Installate Questo Plugin Trovate Le transizioni Sapphire Dentro Alla cartella Transizioni Video Esattamente Come Trovate Le altre Le altre Le altre Transizioni E poi Potete Applicarle Esattamente Come avete Fatto Con le Transizioni Normali Di premiere E poi Modificarle Perché Quella La forza Potete Modificarle Personalizzarle Nel pannello Controllo Effetti Basta Mi fermo Qui Con Le transizioni Le dissolvenze Mi sono Dilungato Anche troppo Su questo Argomento Nella prossima Lezione Parleremo Degli effetti Video Veri E propri Quindi Partiremo Dalle Proprietà Base Di un Video Quindi La scala La posizione La rotazione E poi Nelle prossime Lezioni Vedremo Effetti Video Più Articolati Impareremo Ad oscurare Un volto A fare Un cerchiettino Che segue Per esempio Un oggetto E chiaramente Parleremo Dei Keyframe Quindi Come animare Poi I parametri Dei vari Oggetti Piano piano Ci addentriamo In argomenti Sempre un pochettino Più complicati Se avete voglia Venite a trovarmi Sul sito internet www.fabioambrosi.it Commentate questo video Per domande Commentate gli articoli Sempre se avete domande O chiarimenti O precisazioni Da fare Iscrivetevi Al mio canale Youtube E grazie ancora Al prossimo tutorial Ciao Ciao